ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ciao oggi apriremo due lego minifigures della nuova serie della disney questa è la serie 2 abbiamo fatto la serie 1 che ovviamente non ho qua neanche una checklist e quindi abbiamo trovato anche la serie 2 ma le ho tastate le tastate perché io ne volevo solamente due sicuro che sono jack e sally e non si vede manco cioè non li hanno neanche messi nella confezione ti rendi conto proprio schifati fino alla fine sono 10 due che mancano guarda la checklist a parte qui qua qua vabbè ma c'è lui che rappresenta tutti chip e chop vabbè c'è lui e niente jack e sally proprio li hanno schifati totalmente poverini vabbè li ho tastati e dovrebbero essere loro speriamo poi se dovessero essere loro gli spiego come fare a trovarli quindi ne apriamo una testa scegli quella che vuoi io ho questo partiamo da questa allora ho tagliato la parte sopra così è un po più semplice allora guardo prima la checklist così la vediamo tutti assieme ma c'è hanno anche risparmiato sulla carta a sentire senti che roba la carta igienica è più grossa la donna vabbè allora questa quindi è la serie 2 della disney c'è topoline mini dei vecchi cartoni animati bianco e nero qui qua qua non ho mai capito chi è chi comunque loro tre ma però non dei paperoni questo dovrei trovarlo per mio papà forse dai vabbè così sai cosa tastare mi sa che l'avevo trovato ieri perché ho sentito il bastone vabbè poi chip e chop anna e elsa anna e elsa salazar si chiama si chiama sto tizio è quello di aladdin si è il padrone di Iago non fa il biscottino Iago non fa il biscottino ok prenderemo anche questo poi io voglio Iago e non c'è Iago ma non c'è trovami qualcosa di Iago poi c'è di Jasmine e quelli di Hercules Sally Jack e quelle delle incredibili credo che siano comunque nella confezione ci sono tutti almeno di una coppia ce n'è uno che li rappresenta tranne loro due ne hanno proprio schifati fino alla fine che tristezza vabbè e vediamo se ah si beh dietro ci insegno ad assemblarli come se non lo sapessimo vediamo se è Jack o Sally ok la base è uguale per tutti vediamo ma li hanno imbustati ah hanno imbustato tutto 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 le altre volte erano così buttate a casa dentro la bustina e comunque si ci ho beccato è Jack è qua la testa e l'ho riconosciuto da questo da questa cosina qua perché ho sentito la parte quadrata ed è l'unico che ha una parte quadrata così piatta perché anche qui 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 vabbè lui il libricino però è più rettangolare e più grosso è più spesso esatto quindi andiamo a montarli assieme allora abbiamo scoperto che rosso è qui rosso è qui qui qua qua quindi ah li hanno messi in ordine sì esatto qui qua qua ok è il tuo Jack Sparrow qui mio Jack Sparrow c'è Jack paura no pensavo ci fosse davvero allora lo volevo invece non c'è ti piace anche Jack Sparrow? certo panico pa panico pa panico pa panico paura hai finito? no non si fa il cantante davvero? no nelle notti d'oriente appunto no immersi nel blu no perché non fanno il genio di Aladino? l'hanno già fatto era nella serie 1 ma dai arrivo sempre tardi arrivo me lo trovi? eh sì alla terza c'erano no non della Disney della serie 1 allora ho trovato Jack ed è bellissimo è troppo carino vediamo se si è riuscita a fare la coppietta con Sally ed è anche come tutti i lego stampato benissimo gli hanno fatto guarda anche lo svolazzo nel vestito e il suo fatidico fiocco fatidico il suo fantastico fiocco che ha sempre che è carino è bellissimo bene andiamo a vedere se la mitica Sally state che te lo apri grazie andiamo attenzione questa è la Cecchie che abbiamo già visto andiamo un po' c'è Sally ma e questa non ha la bustina? ma ci hanno imbrogliato perché? questa non ha la bustina questa ha i pezzi sparsi come i vecchi però è Sally yeah due su due ma mia ma mia e Sally l'ho riconosciuta da questa roba qua che ha che dovrebbe essere una specie di pianta e l'ho riconosciuta per quella un trifoglio no perché la devi assemblare come se? tipo ha questo pezzo e poi ha il fiorellino che va montato sopra tipo aspetta è molto più facile è molto più facile è noto vedi? che c'è il fiorellino montato sopra questo adesso facciamo incastrarlo uno sarà di ricambio metti questo che c'ha fatto io ne mettevo due dico anche l'altro scusa eh devi prima farglielo però perché risparmiare? due gusti smedica one sì nota pubblicità degli anni 90 che carini abbiamo fatto la coppietta mamma mia tastatrice seriale divento e basta semmai vediamo ma anche se è bellina vero? ho visto paperon dei paperoni perché non hai mai visto Frozen sì che l'ho visto hai visto Frozen? certo è vero? certo ecco hai visto Frozen perché hai visto Frozen? perché ero a casa malata non sapevo cosa fare ho guardato Frozen non è vero era l'unica cosa che passava di recente in tv sì è vero ecco quindi vediamo se prenderne alcuni comunque questi sono Olaf Olaf esatto Olaf non hanno fatto Olaf voglio eh quello devono fare comunque questi quindi si riconoscono o per il fatto di Jack che ha questa scatola non so cosa sia comunque una scatola o dal fiocco e lei dà quello che ha in mano gli altri sono anche facilmente riconoscibili perché Mickey ha il timone e Minnie ha sta cosa che deve essere una ciambella vabbè insomma tutti hanno qualcosa che gli altri non hanno per cui si possono facilmente riconoscere senza comprarne 20 a caso sperando di trovare quello che si vuole basta tastarle un po' bene quindi anche questo video termina qui guarda che bellini che sono non sono stupendi sì soprattutto Sally perché? perché l'ho sgardata io l'ho trovata io e sono assolutamente fantastici il prezzo è di 3,99 euro sì almeno questo è quello che abbiamo pagato noi e niente se non trovate la commessa scontrosa sì vabbè lasciamo parte che se li trovava tutti per lei e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video vi salutiamo mettete mi piace al video a tutti i video iscrivetevi state su youtube tutto il giorno a guardarci ciao ciao ciao